Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda per traffico tra BV1, Compranare e Firenze Nord e BV1 Variante in direzione di Bologna. Prudenza inoltre per nebbia banchi tra Roncobilaccio e Aglio. Ci spostiamo sulla Firenze Mare dove troviamo codi a tratti per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e BV11A1 e per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipilico di attratti ancora una volta per traffico tra La Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze in carreggiata opposta, coda in uscita a Firenze Scandicci. A Firenze traffico sostenuto sulle principali elettrici in ingresso città. Per la cantieristica segnaliamo che sono in corso lavori di posa delle infrastrutture di telefonia in zona Piazza Gavinana, Viale Giannotti, Via Giovanni dalle Bande Nere, Via Caponsacchi fino al 20 aprile previsti restringimenti di carreggiata. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!